Buongiorno ragazzi e ragazzi! Chi non ci vedete credibili in questi panni? Vabbè io sono bellissima! Ma oggi siamo ritornati qui per fare una parodia di un po' di tutto e vi lasciamo a voi indovinare qual è! Ma te lo rit! Va bene, noi ci vediamo e vi lasciamo al video! Ma con schazzini! Amore lo sai che ho visto giù nei commenti di Mark e Giulia Kawaii che dicevano che Giulia è brutta! Brutta Giulia! Lì c'è scritto brutta Giulia! Su si rubite! Tiè! Bravo! Ma mamma che hai in questa borsa? Voglio accendere, voglio accendere! E' qua! Mi sono comprati l'occhiato! E' qua! Mi dà una borsa! No! 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 Ma... Ma no d'escemo! Ma... Ti devo fare un ARC! Tattu し! Vita! Che amo! Cuore! Che amo! Partito! Che amo! Ti devo fare un ARC! Che devo dire qualcosa io! Che me lo devo dire? Che! Devo dire che che ti dicono giù nei commenti sempre di Mark e Giulia che ha tutti i bambini che la seguono, sono bambini stupidi e cretini. A Marga e Giulia, gli ho risposto. A Marga e Giulia, i bimbi scemi e brutti cretini, gli ho risposto. I bimbi brutti e cretini, voi non siete niente e guardate, tu sei un bimbi brutti! Amore, è arrivato a un certo punto, vi devo dire una cosa, è meglio che ci mettiamo nei bambini a Marga e Giulia, perché hanno fatto una domanda troppo brutta, hanno detto che devono abbandonare il canale, e che facciamo, lo abbandoniamo? Sì, abbandoniamo, sì, va bene. e ma non siamo fatti, esatto! Sì, abbandoniamo la mano! Ecco, non so se non mi pare, ossia un bambino! E va bene, attraverso il canale! Ma non so se non mi pare, non so se non mi pare. Ma lì c'è il video preferito! Non mi chiede a fare! Oh! Allora! Ma che giuro vuoi? Qual è stato il tuo video preferito? L'ingazzato da me è solo l'izzato! Bello, bello, bello! E io invece a me è piaciuto quello della comunità del mio amico! Ciao! Ciao! Ragazzi, ora siamo nei panni veramente di Marghe e Giulia Cavalli perché siamo queste persone qui e, vabbè, Giulia che si sposta dappertutto io mi devo lasciare perché fa caldo ma è normale, questo lo facciamo solo per voi, eh! Mi raccomando! Ragazzi! E poi... Vieni qua! Allora, queste sono le torte che gli fanno male piede a lei! Bene, allora, noi vi vogliamo dire che facciamo tutto questo per voi e voi siete delle persone che seguono Marghe e Giulia Cavalli e siete specialissime! vi mandiamo un bacione a tutti quanti! Muah! Ah! E a quelli che dicono giù nei commenti che sono... che siamo stupide, che voi siete solo piccoli e stupidi e tutto quanto voi non siete neanche una formica! neanche... più piccola della formica! Siete zero! Bene! E poi vi voglio dire un'altra cosa iscrivetevi al canale mettetevi bei commenti seguite tutti i nostri video perché ci saranno altri bellissimi video gaming, challenge, parodie e di tutto e di più! Bene! Io vi dico di mettere bei commenti di mettere bei commenti di iscrivervi al canale e di mettere bei like e a voi che siete... voi che scrivete giù nei commenti che siete hater in realtà siete solo hater e a voi che ci seguite un bacione enorme! Muah! Ciao!